Le api non fanno parte del mondo, le api sorreggono il mondo. Sabato sera la città di Cava di Tirreno è stata protagonista purtroppo di uno spiacevole episodio che si è registrato durante la movida, però Cava resta comunque una città sicura. Sì, condivido pienamente, infatti è un caso sporadico, diciamo che sono quei fatti che possono accadere anche nelle migliori famiglie, diciamo così, quindi non drammatizzerei, sono fatti episodici, localizzati, sono successi a luna di notte, quindi anche la parte nostra come provizia municipale abbiamo poco modo di intervenire perché a luna di notte è soltanto presidio delle forze dell'ordine. Quello che posso dire è che ho mandato al comandante di interfacciarsi con le forze dell'ordine in modo da organizzare, almeno così, dei controlli, il venerdì sera, sabato sera, portando la polizia municipale oltre il normale orario di lavoro, quindi fino a mezzanotte, fino a 1, fino alle 2 se è possibile, almeno in modo, diciamo così, a campione. Dopodiché quello che posso dire è che Cava di Tirreno è una città sicura, tranquilla, è la migliore movida della campania, possiamo dire, quindi i nostri genitori possono stare tranquilli, che i figli stanno in tranquillità e in serenità quando vengono a Cava di Tirreno. Noi abbiamo in essere 610 mila euro di finanziamenti per figli e sorveglianza che nel 2023 adesso si dovrebbero concretizzare e quindi quello che mi sento di dire, di affermare, è che da qui, diciamo, entro l'anno metteremo telecamere su tutto il territorio di Cava di Tirreno, quindi anche e soprattutto su Piazza San Francesco e quindi sarà ancora una città più sicura. Poi adesso stiamo provvedendo a fare dei piccoli ritocchi tipo ZZTL, diciamo, proprio verso il sagrato della chiesa. Tra poco inizieranno anche i lavori della piazza, quindi non ci sarà più il parcheggio in quella zona, quindi andiamo a verificare che cosa succederà, quindi andiamo a monitorare quando sarà il momento e quindi certamente correremo a delle misure, diciamo così, di prevenzione.